Detto fatto, il documento provato anche dalla conferenza dei sindaci sulla sanità è l'ordine del giorno che impegna anche il sindaco Roberto Gambino a supervisionare sull'ospedale Sant'Elia e a lavorare sulla collocazione a Caltanissetta del Policlinico. La conferenza provinciale dei sindaci che ho convocato sul tema Policlinico all'unanimità dei presenti ha deliberato la condivisione degli obiettivi con la città di Caltanissetta e si è impegnata a affrontare la stessa tematica presso i rispettivi consigli comunali quindi con l'ordine del giorno già votato dal Consiglio Comunale di Caltanissetta. Andiamo avanti sul tema Policlinico, noi ci siamo. In contemporanea dagli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale a Palazzo del Carmine Giovanni Magri ha inviato lo stesso documento ai presidenti dei consigli dei 22 paesi della provincia, alcuni dei quali tuttavia sono in scadenza di mandato quindi nell'impossibilità di approvare atti non urgenti. Gli altri dovrebbero seguire l'esempio nisseno.